allora amici eccoci qua la prima nostra amica è venuta a farci compagnia una piccola carpa regina presa con con una pop up di 16 staccata staccata 8 dal fondo naturalmente grazie al posizionamento della lenza in pesca da parte di marco nel suo barchino che è andato con il suo barchino munito di eco scandagli andata a trovare il punto migliore fondo pari maggior maggior fondo fondo pulito vero marco alla grande grande allora un'amica c'è venuta a farci compagnia bene chiediamo qua speriamo di riappure